Parte l'avventura dell'US Agropoli 2014-2015 con la presentazione della squadra il giorno 20 agosto presso la sala conferenze del comune di Agropoli. Il giorno dopo, 21 agosto, vernissage con l'Avellino Calcio allo Stadio Guariglia. Giorno 24, amichevoli con il Savoia Calcio, ancora presso lo Stadio Guariglia. Parte in contemporanea anche la campagna abbonamenti per la stagione calcistica ormai imminente. Lo slogan della campagna recita, I ragazzi hanno bisogno di noi, noi abbiamo bisogno di voi. Dimostraci che i sacrifici possono esaltare il senso di appartenenza, ma è come oggi, ce la possiamo fare. Nuotiamo uniti verso il nostro sogno, in fondo siamo tutti delfini.